Scusate per l'attesa. Non c'è fretta. Lo ammetto, davvero impressionante. Come ci riesce? Ah, pratica, finché non sanguina la gola. A scuola avevo un disturbo del linguaggio e l'uomo che mi curò... Non lo tocchi! A lui non... Mi scusi, non per essere scortese, ma il suo meccanismo è molto delicato. Scusate, che cosa mi volevate chiedere? Ha frequentato Blenning Vale per diverso tempo nei primi anni cinquanta, è corretto? Lei è Benjamin Arnold Topling, nato il 23 giugno 1938. Avete preso l'uomo sbagliato, Sbirri! Non mi prenderete mai vivo! È un'indagine seria, signor Topling. C'è poco da scarzare. No, 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 certo. Scusate. È un tic nervoso. Non deve essere nervoso, non ce n'è motivo. Se non ha fatto qualcosa. Non ha fatto niente. Bugiardo! Possiamo continuare in commissariato, se preferisce. Ma saremo solo noi tre. Scusate, Clyda. Per favore. Per favore. D'accordo, va bene. Non dirò più niente. Prego. Chiedete quello che volete. Ho la bocca cucita! Sono muto come un pesce. Eccoci. Parlamento.